Innanzitutto, permettetevi di ringraziare tutti quelli che sono venuti e soprattutto voi. Sono molto contento di questa cosa perché presentano questo libro, Quattro Amici. Io non penso di averne tantissimi, quindi è un grande onore per me. Io penso questo. Ho voluto scrivere questo libro che sicuramente non è opportuno per tante cose, soprattutto in questa fase. Penso che questo nostro Paese ha avuto molte volte la colpa di non aver fatto i conti con la propria storia. E io penso che questa legislatura è stata una legislatura storica e di grandi occasioni perse. Perché questa legislatura è iniziata con una grande svolta elettorale. Per la prima volta da vent'anni, la sera delle elezioni, non avremmo saputo chi ci avrebbe governato. Negli altri casi, bene o male, lo sapevamo. Lo sapevamo quando aveva vinto Prodi, quando aveva vinto Berlusconi. Ma invece lì c'era un fatto incredibile. Cioè un partito che non esisteva diventa il primo partito d'Italia. E si passa a un tripolarismo. È evidente che da questo si crea l'occasione di provare a determinare una più forte coesione nazionale. È vero che c'è molto ribellismo nei confronti della classe politica. Ed è anche vero che oggi l'Italia moderata, quel ceto medio che è stata la spina dorsale del nostro paese, e che fondamentalmente ha identificato il proprio benessere con il benessere della nazione. Diciamo, quell'Italia è l'Italia più arrabbiata. Oggi i moderati sono i più arrabbiati di tutti. Perché è quella che è stata più duramente colpita dalla crisi. Ma io credo che c'è una parte di italiani che invece avrebbero voluto dalla classe politica un'altra interpretazione. E cioè la consapevolezza di fare il bene del paese, di rafforzarlo in un contesto internazionale difficile, dove l'Italia è in difficoltà. Questa legislatura, insomma, anche sotto questo aspetto ci lascia un'eredità difficile. Insomma, l'amico Fedele sa bene che con la Francia qualche problemino lo abbiamo, anche dal punto di vista, diciamo, della tenuta dei nostri asset nazionali. E avrebbe voluto quindi questo. E le forze politiche, all'inizio, erano riusciti a comprendere questa cosa. I primi due anni della legislatura bianca non sono stati anni in cui la protesta è dilagata. All'inizio il Movimento 5 Stelle è stato addirittura contratto e scendeva nei sondaggi quando si è fatto il governo di unità nazionale. Perché? Perché quel governo era un governo fatto da diversi. Cioè, non è che chi era di centro-destra proponeva di convertirsi. E dall'altra parte, chi era del centro-sinistra non diventava improvvisamente berlusconiano. Anche dal punto di vista, tra virgolette, antropologico. Si era figlata una tregua per cercare di fare due cose, fondamentalmente. Rafforzare la questione della nazione e scrivere delle regole comuni. E, insomma, noi, e vengo a risponderti, avevamo sotto questo aspetto, per cercare di salvare questo progetto originario, fondato un partito con un nome bruttissimo. Forse il nome più brutto che io abbia mai sentito. nuovo centro-destra. Ma almeno era un nome chiaro. Cioè, era un nome che ci diceva che... Qual era il nostro programma? Che era quello di rinnovare un campo e di farlo portando avanti, appunto, il progetto della riforma. Ecco, questa cosa è completamente svanita. Nel senso che Renzi non l'ha compresa e non l'ha rispettata. E dall'altra parte c'è stata, diciamo, una dirigenza che ha ritenuto che Renzi potesse essere, diciamo, tra virgolette, un nuovo Berlusconi, potesse fondare un ventennio e che quindi bisognasse mettersi in scia. Io penso anche una cosa su questo. C'è qualche tratto comune tra Berlusconi e Renzi nel senso che Renzi è un imitatore perché la sua generazione ha avuto, diciamo, come grande icona quella di Berlusconi. Però ci sono anche delle differenze fondamentali. E la differenza più grande tra le tante, se ne potrebbero citare tante, è che Berlusconi ha fondato una tradizione politica che non esisteva, e cioè la destra di governo. è stato, come si può dire, è stato il pioniere, è stata la generazione dei pionieri e dunque evidentemente non faceva i conti con qualcosa che preesisteva. Renzi si è mosso nel campo della sinistra che in Italia ha una tradizione delle radici di cui ti devi rendere conto. È evidente che i livelli di mediazione, i livelli di smussare gli angoli, di cercare diciamo quello che diceva Luciano, c'è una rappresentanza in un caso o nell'altro sono completamente differenti. Non puoi pensare di fare i conti con quella tradizione come se stessi scrivendo su una lavagna bianca. E credo che questo sia stato il motivo per il quale fondamentalmente lui ha distrutto l'unica comunità politica che all'inizio di questa legislatura esisteva. Perché bene o male quella era una comunità politica che ne aveva passate tante, non è la mia, sono stato pure contento che l'abbia fatto, ma oggettivamente questo è stato diciamo il risultato. Se posso dire il momento di maggiore insipienza è stata e tu l'hai messo in evidenza bene l'elezione del Presidente della Repubblica quando si è dimesso Napolitano. Ora, tu stai facendo la riforma della Costituzione, cioè stai cambiando la Costituzione del 48, hai un interlocutore che ti consente di farlo, che non ti consente di farlo con un tuo ministro senza essere al governo, che addirittura ti approva una legge elettorale tre giorni prima della elezione del Presidente della Repubblica che poi è il garante di questo processo, ma come ti può venire soltanto in mente di escludere dal tavolo il tuo interlocutore e di dire io non sentirò il suo condizionamento. questa è ignoranza istituzionale e non conoscenza della storia e devo dire questo l'ho testimoniato quella che è una mia convinzione profonda che se il metodo fosse stato diverso si sarebbe usciti da quella occasione con l'elezione di Mattarella che avrebbe compreso anche Forza Italia e il centro-destra. vengo brevissimamente alla risposta io sono uscito dal nuovo centro-destra da coordinatore due anni e mezzo fa grossomodo nel settembre e quando la parabola di Renzi era una parabola trionfante anche quella del referendum anche qui in sala c'è qualcuno che diceva tu sei matto a pensare di fare una cosa del genere mi consideravo un po' come Salvemini un matto malinconico ma insomma ha ragione Antonio forse c'è in questa una tipicità del mondo politico io non penso di essere stato troppo accondiscendente come carattere non lo sono anzi forse qualche volta dovrei esserlo di più ma non ci riesco io credo di aver fatto un altro errore politico ho ritenuto che quella avventura fosse così grande che la cosa importante era saldare una classe dirigente e non pensare diciamo alle regole che determinano la vita interna di un partito quindi non ho dato nessuna importanza al fatto che il coordinatore nazionale di NCD era investito diciamo dal presidente del partito e non direttamente da un congresso congresso che è organizzato dal quale non avrei avuto difficoltà ad avere diciamo una investitura questa cosa è stata determinante perché ha impedito che si aprisse un confronto all'interno del partito Fedele riterrà questa una cosa diciamo di politica politissienne però la politica la politica è fatta anche di queste cose cioè io non ho potuto mettere ai voti due linee politiche l'unica possibilità che ho avuto è stata quella di uscire dal partito devo dire e questo con pieno rispetto soprattutto umano per la scelta di Alfano col quale poi non è mai esistito nulla di personale ma soltanto problemi politici devo dire che avevo assolutamente previsto e gli avevo anche detto come sarebbe andato a finire perché un partito che nasce per rinnovare il centrodestra che poi diventa consustanziale al centrosinistra che non si non si procura lo spazio per essere un alleato e quindi per essere rispettato alla fine tu il gioco lo puoi portare sempre più avanti ma arriva un momento quello delle lezioni nelle quali una scelta si impone la scelta tra il tuo progetto originario e quello che sei diventato e allora se non c'è uno spazio di alleanza a quel punto il progetto implode e ci si divide in due campi devo dire che raramente mi è accaduto di prevedere con tanta lucidità una cosa al punto tale da preoccuparmene perché insomma per un liberale il futuro è sempre aperto la politica insomma crea sempre qualche sorpresa e invece in questo caso è andato tutto come previsto quindi insomma questi sono stati sicuramente questo è stato l'errore principale poi ce ne sono stati tanti altri insomma di valutazione e così via ma questo credo che sia insomma ecco un'altra condizione della libertà perché la libertà si fonda sull'ignoranza fondamentalmente se uno fosse onnisciente non sarebbe più libero perché la sua onniscienza gli direbbe che cosa fare insomma io sono stato abbastanza ignorante in questa legislatura grazie